La regione siciliana ha annunciato che 133 comuni non avranno i soldi quest'anno nemmeno per pagare gli stipendi perché ha preteso che gli restituissero il prestito che hanno avuto per la spazzatura l'anno scorso, due anni fa. Ma questa regione anziché pensare a come risparmiare pensa a come togliere soldi agli enti locali che già sono con l'acqua alla cola? Ma guardi, è un problema che parte da lontano. Noi negli ultimi decenni come regione siciliana non abbiamo avuto un buon governo, non abbiamo avuto persone provenienti dagli enti locali, abbiamo avuto un governo fatto da persone scelte dal principe perché adesso la politica purtroppo è lideristica e quindi il capo sceglie anche i parlamentari e sceglie a maggior ragione anche gli assessori. Persone che non c'entrano niente col territorio, che non conoscono i problemi del territorio, che non hanno a cuore i territori della nostra terra. Per cui è facile togliere fondi al Fondo per i Comuni. Se lei pensa che il Fondo per i Comuni nel 2000 era qualcosa come 2.000 miliardi di vecchie lire, quindi un miliardo di euro di ora, di oggi. Adesso invece lo hanno ridotto a qualcosa come 500 milioni di euro. Basta pensare che solo la forestale, la forestazione in Sicilia costa 400 milioni di euro e che potrebbe essere invece tutta passata sui fondi comunitari e quindi recuperare per esempio questi 400 milioni per la forestale per i Comuni e quindi dare un attimino di respiro ai Comuni. Purtroppo la logica della politica è stata messa da parte. Ci sono improvvisatori, persone che con il nuovismo vogliono assolutamente, secondo loro, cambiare le cose, ma li stanno cambiando in peggio.